Il prefetto di Firenze ha intenzione di lanciare un bando per trovare strutture più grandi di quelle finora utilizzate per ospitare i nuovi arrivi dal Mediterraneo. Il neo governatore Rossi invita il prefetto a ripensarci, intanto però sono in tanti, anche tra i sindaci toscani, a seguire l'esempio di regioni del nord, per esempio, che dicono noi non possiamo ospitarne di più. Il problema è serio, non si risolve né con gli slogan né con superficialità, il problema è che bisognerebbe non farli partire, perché una volta che questi partono è chiaro che non possono annegare nel mare, è chiaro che una volta che vengono accolti non si possono lasciare dove sono, è chiaro che devono essere distribuiti in teoria in tutta Europa, però in Europa abbiamo un governo debolissimo, quindi non dice una parola nonostante che Renzi faccia i selfie e tutte le chiacchiere, poi arriva in Europa e non riusciamo a distribuirli in tutta Europa. Quindi poi una volta che sono in Italia è ovvio che ciascun sindaco e ciascuna del regione prova a dire non nel mio giardino, è giusto perché nessuno li vuole. Il problema è che non dovrebbero partire, altrimenti si continua a svuotare con un bicchier d'acqua il mare e non è possibile, quindi la soluzione bisognerebbe impedire che queste ondate di migranti partano, anche perché la selezione in questo momento la fa il mare e non è una selezione naturale, nemmeno da quando esiste la civiltà hanno eliminato il concetto della rupe tarpea, per cui vorremmo che i migranti che arrivano in Italia fossero selezionati in base alle possibilità di lavoro, al curriculum, alle esigenze che hanno, quindi se scappano da guerre atroci o no, non vorremmo che a selezionarle fossero l'Isis in base a quelli che mette sui barconi, o il mare in base a quante onde ci sono se si arrovesciano alla barca, è una cosa incivile, non capiamo cosa ci sia da parte della sinistra, dove sia la solidarietà in tutto questo, oggettivamente ci sfugge, quindi non è una soluzione, tutte queste sono non soluzioni evidenti, sono soluzioni per chi ci guadagna sopra, le cooperative, l'associazionismo, purtroppo l'abbiamo visto con la vicenda di mafia capitale a Roma, ma purtroppo in Toscana non è diverso, c'è un business dietro a tutto questo, noi non interessa questo business, se lo vogliamo fermare, l'unica soluzione è non farli partire, occupando con delle forze internazionali porti di origine in Africa e anche con degli investimenti in cooperazione e sviluppo per migliorare le condizioni a casa loro.